Edora Sport, calcio con il Girone C di prima categoria. Sulle immagini di Soverato Montepaone, il commento della settima giornata del campionato di prima categoria Girone C, che vede al comando di Guardavalle che supera il Piscopio con il più classico dei risultati, 2-0, e approfitta del pari imposto dalla Rosarnese al Real Pizzo e vola solitario in vetta alla classifica. Finisce con la vittoria il derby tra il Soverato e il Montepaone, sul terreno Enzo Larocca di Badolato, la rete di Michele Zaffino al decimo del primo tempo con questo colpo di testa che scavalca il bravo Audino. Dopo il clamoroso errore il capitano condito Michele Zaffino fallisce anche un calcio di rigore, quando mancavano 15 minuti alla fine della gara. Una gara molto delicata e difficile anche per il direttore di gara, non all'altezza dell'incontro. Le due squadre nella ripresa hanno giocato in dieci per l'espulsione avvenuta negli spogliatoi. Sentiamo in merito l'intervista realizzata dal nostro Franco Laganà. Crillone, direttore sportivo del Montepaone, tre punti importanti per la sua squadra? Sì, tre punti molto importanti perché comunque è sempre un derby, i derby come sappiamo valgono doppi. Abbiamo dato tutto in campo, abbiamo concesso poco, diciamo abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare. Un ringraziamento speciale va ai tifosi che sono stati tantissimi, ogni domenica ci seguono e ci danno quella cosa in più che serve sul campo. Un Soverato è comunque deludente. No, vabbè, sapevamo di incontrare una squadra comunque all'altezza. Il Soverato quest'anno ha costruito una squadra buona, ottima, che può lottare fino alla fine per le prime posizioni. Oggi, come ho detto prima, è comunque un derby, quindi le partite sono sempre tese, contratte. Però è stata la partita corretta fino alla fine e quindi questo è importante pure. Un supporto molto importante da parte dei tifosi. Sì, i tifosi ci accompagnano ogni domenica. Sono tutti ragazzini di 15-16 anni, però amano questo sport, amano il nostro paese, Montepaone. Ogni domenica ci danno il loro contributo. Un balzo in avanti in classifica. Sì, sì, anche se noi guardiamo poco la classifica, pensiamo domenica dopo domenica a fare il nostro. E poi quando dovremo tirare le somme a dicembre, vediamo dove siamo e poi ci regoliamo di conseguenza. Mister Sesto, una squadra ben messa in campo che ha messo in grosse difficoltà il Soverato. Sì, sono veramente felice perché i ragazzi hanno fatto una prestazione eccellente. Per fare il risultato con una squadra come il Soverato qui bisognava giocare al 100% e forse qualcosa in più. I miei ragazzi l'hanno fatto alla grande, sono contento per loro, se lo meritano. Li ringrazio l'elogio pubblicamente per la prestazione di oggi. Tanto entusiasmi in campo tra i giocatori. Sì, vabbè, i derby sono sempre partite sentite, quindi anche questa era una partita sentita, però per fortuna si è risolta poi nel sano agonismo. Le sue valutazioni sulle squadre che sono nelle prime posizioni? Ancora non le ho incontrate tutte. Sicuramente il Soverato è una squadra attrezzata per i vertici della classifica. Mi dicono il Pizzo, non so, Rosarno, Promos, Portaverna. Insomma, ci sono parche lì e ci sono queste 5-6 squadre che dicono che sono fra le qualità di Guardavalle, soprattutto, in primis. Ci sono 5-6-7 squadre che si giocheranno il campionato. Il pubblico è ritornato in che a seguire la squadra? Sì, c'è di nuovo entusiasmo. Per fortuna oggi il calendario ci ha dato una mano, che solitamente giochiamo in casa al sabato quando c'è il Catanzaro che ci porta via un po' di tifosi. Oggi, con il Catanzaro fuori casa, i nostri ci hanno seguito e ringrazio i nostri ragazzi, i nostri ragazzini, i nostri ultras che ci trascinano ogni domenica. Audino, portiere del Soverato, una sconfitta che brucia rispetto alle altre prestazioni della squadra. Sì, certo. Perdere un derby, innanzitutto perdere è sempre brutto. Poi quando ti trovi a dover perdere un derby in casa è ancora peggio. Infatti, noi eravamo pronti per questa partita, ci eravamo preparati bene in settimana, però purtroppo non è andata come speravamo. In difesa c'è stata qualche imprecisione che ha portato al gollo nel primo tempo del Montepaone. Sì, purtroppo gli errori capitano, ci sta e a giro sbaglieremo tutti sicuramente. Però dobbiamo essere anche bravi a recuperare dagli errori e a cercare quindi di rimediare e recuperare la partita, cosa che oggi non ci è riuscito. Ottima la tua prestazione, hai parato un rigore, ma poi non c'è stata la reazione giusta per pareggiare. Certo, sicuramente mi fa piacere aver parato un rigore, però avrei preferito sicuramente che avessimo anche recuperato la partita e portata a casa quindi qualche punto. Le valutazioni riguardano anche la vostra posizione in classifica? Certo, sicuramente vista la nostra posizione e anche il distacco che avevamo tra le prime due, con una partita in meno sicuramente avremmo sperato di portare a casa una vittoria e anche di allungare sulle inseguitrici, cosa che invece è avvenuta al contrario. Viste le difficoltà degli attaccanti, negli ultimi minuti ti sei proiettato in avanti sul calcio d'angolo per cercare di sorprendere il portiere avversario? Sì, certo, diciamo che alla fine si prova il tutto per tutto e appunto era andato in area di rigore a cercare di colpire di testa questa palla che mi è stata proprio tolta a mezzo centimetro dalla testa e sarebbe stato veramente bello segnare e pareggiare la partita all'ultimo minuto. Adesso bisogna dimenticare questa sconfitta e guardare in avanti? Certo, subito, già da domani faremo le necessarie valutazioni, però dobbiamo ripartire senza batterci perché il campionato è ancora lungo e dobbiamo lottare parecchio ancora. Questi i risultati e la classifica Ha riposato la Rombiolese La classifica